Così è brutta? È tosse. Ancora sono tornato a roma, già sento che mi mancherà qua la villa a tutti quanti. Dobbiamo spaccare tutto. Te lo prometto, te lo prometto. Ma la notte cala sulla villa e con lei anche il suono di un inaspettato tablet del terrore che porterà una notizia sconvolgente per tutti, ma soprattutto per te, Andrea. Andate a prepararvi per l'Elegant Party e mi raccomando fatevi belli e sfoggiate il vostro outfit migliore perché questa per tutti voi sarà l'ultima notte di Exxon. Porca tr*****a! Così è brutta? E' tosse. Io non ho già visto questa cosa, quindi... Però dai, è tosse. Exxon The Beach ci ha abituato a questi scherzi, però stavolta è esagerato. Io ve lo dico, stavolta è troppo. Ti connessi? È una cosa brutta. Vi siete mai chiesti che faccia a un uomo che arriva in Colombia per restarci in meno di 24 ore? Ecco, questa è la risposta. Ancora sono tornato a roma, già sento che mi mancherà qua la villa tutti quanti. C'è ancora l'Elegant Party che non so quanto potrò essere elegante con sta faccia perché che porca put***a, ragazzi. Non hai visto? Non mi ero andata a te, non d'oro. Cazzo è stato... Stasera? Sin zuppa il... Ah, non scusate. Mega orgio. Dobbiamo spaccare tutto. Te lo prometto, te lo prometto. Stasera non si dorme, non mi serve un cazzo. Prima che dorme lo alzo e lo butto in piscina. Provo, te lo prometto. Stasera ti farò elegante anche a te. Stasera ti farò elegante anche a te.